Vediamo dunque alla sinistra del teleschermo Marzio De Om e Johnny Cattaneo insieme a Leo Paez, Mirko Celestino, insomma tutti i grandi protagonisti di questa importante manifestazione che ancora una volta si sono ritrovati proprio qui in Trentino per regalarci un grande spettacolo con il mondo del mountain bike. Ormai siamo quasi all'ottavo chilometro della corsa, naturalmente la gara è ancora lunga però possiamo anticiparvi alcune delle mosse che ci saranno. Infatti vediamo subito in questo momento Marzio De Om al comando seguito da Paez, lo riconosciamo con il 14, quindi Paolo Montoya con il 7, Mirko Celestino con il numero 2, Johnny Cattaneo con il numero 17. Con il numero 12 vi segnalo anche la presenza di Marco Zappa, lo vediamo in questa immagine fatta alle sue spalle e qui invece ci riportiamo al comando della corsa, il portacolori della Giant Paolo Montoya. E questa è la salita che porta i concorrenti corridori a Passo Vezzena, quindi queste le prime fasi di gara, Mirko Celestino, Team Alba Orobia Bike subito alle spalle del gruppo di testa che rivediamo molto bene in questa immagine iniziale. Dunque avete sentito nomi assolutamente di primo piano, Paez, Deo, Celestino, Montoya, Cattaneo, tutti i grandi protagonisti subito dalle prime fasi di questa corsa. Dunque gara sempre più bella ed avvincente ma attenzione perché ad una decina di secondi dal gruppo di testa transita anche Silvano Ianes che vediamo con il 31, davanti a Marco Zappa con il 12 e Agostino Andreis con il numero 4. Tre atleti dunque all'inseguimento del quintetto di testa ed ora ci riportiamo sulla testa della corsa con Leo Paez al comando in questa frazione di gara, posizioni soprattutto al vertice che continueranno a rimescolarsi anche per le prossime sequenze video. Infatti qui al comando siamo al tredicesimo chilometro di corsa, ora si è portato Marzio Deo della Cicli Olimpia. Dunque rimescolamento di carte in questo frangente ma soprattutto questo quintetto di atleti che cerca di staccare i tre inseguitori di cui vi abbiamo dato conto proprio qualche istante fa a comandare questo terzetto di inseguitori. C'è Silvano Ianes per cui una gara che sicuramente sta entrando nelle fasi più importanti. Vedremo dunque se il gruppo riuscirà a ricucire lo strappo. Lo vediamo da questa inquadratura, il terzetto che tenta dunque di riguadagnare i fuggitivi in questo caso. Gara che comunque è ancora assolutamente lunga e quindi ricca di sorprese. Noi naturalmente come appassionati di mountain bike ce l'auguriamo vivamente. Ne approfitto anche per ricordare a tutti i nostri telespettatori anche il sito internet ufficiale della nostra trasmissione all'indirizzo www.telestudio8.it per essere sempre aggiornati sulla nostra programmazione televisiva e anche per poter visualizzare i filmati delle nostre puntate televisive. Ancora Marzio Deo al comando di questa gara, ormai vicini alla piccola pausa pubblicitaria. Dunque Deo che spinge assolutamente sui pedali. Ci fermiamo un attimo per un piccolo break. Ritorniamo tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della Mille Grobe Bike. 100 chilometri dei forti. Attenzione perché vediamo che i cinque atleti in fuga sono stati raggiunti grazie all'impegno di Marco Zappa che si è trascinato appresso proprio Silvano Ianes. Neanche a farlo apposta. Ed Andres con il numero 4 come vediamo da questa inquadratura finale. Dunque la fuga dei cinque atleti è assolutamente terminata e quindi i giochi si riaprono in questo frangente. Mille Grobe Bike 100 chilometri dei forti. Grande protagonista qui su Sport Winner. Intanto inquadratura per il numero 45 ovvero Federico Birtele. Questo è il suo passaggio con le indicazioni anche dei volontari della protezione civile. Qui con il numero 3 vediamo Stefan Unterturner davanti a Josef Mostosi che vediamo in questo momento. Josef Mostosi lo riconosciamo con il pettorale di gara numero 6 e tesserato per la cicli Olimpia. Dunque fasi concitate della corsa dopo un primo tentativo di allungo da parte di cinque atleti. Tentativo che è stato smorzato. Quindi giochi assolutamente riaperti in questa fase di gara. Davvero belli questi passaggi sull'altopiano che durante il periodo invernale si trasformano in piste da sci. E in estate naturalmente uno spettacolo assolutamente impareggiabile. Ben documentato dunque dalle telecamere della nostra trasmissione. Ricordo a tutti i nostri amici sportivi che potete seguire anche le nostre sintesi di gara sul nostro sito internet ufficiale all'indirizzo www.telestudio8.it Li trovate anche in anteprima la nostra programmazione televisiva, le frequenze delle varie emittenti e naturalmente anche il nostro indirizzo di posta elettronica info chiocciolatelestudio8.it per mettervi in contatto direttamente con la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di uomini al comando per buona parte della nostra sintesi e tra pochi istanti con le immagini ci porteremo a vedere quello che è l'andamento della gara femminile. Qualche passaggio naturalmente anche a ritroso sugli amatori che animano questa 100 km dei forti perché ricordiamo questi avvenimenti hanno grande successo se vi è una nutrita partecipazione di amatori. Il vero movimento per quanto riguarda il fuoristrada italiano. Sapete che poi all'interno del nostro programma c'è sempre un passaggio particolare proprio per gli amatori che ringraziamo come sempre anche per essere numerosissimi a seguirci tutte le settimane sia in televisione che sul web. Vi dicevo anche della gara femminile tra pochi istanti eccoci qui ci portiamo sulla prima donna Lorena Zocca Lorena Zocca al transito dopo Malga Posellaro siamo al ventesimo chilometro della corsa quindi Lorena Zocca davvero in grande forma per questo importante appuntamento e Lorena Zocca chiamata anche a riconfermarsi per questa sua edizione della 1000 Grobe Bike 100 km dei forti. Naturalmente non è facile fare questo ma l'impegno è assolutamente totale. Tra l'altro tra poco anche vedremo proprio Lorena Zocca insieme a Francesca Lonardelli lo vediamo da questa inquadratura la Lonardelli è in seconda posizione dunque questo tandem tra le due atlete e soprattutto in questa fase di gara potrebbe cominciare a delineare quali sono i valori in campo rispetto alle avversarie ma naturalmente non vogliamo escludere anche le altre atlete come Sabrina Baccarin tra l'altro la Baccarin la vedremo tra qualche istante proprio all'interno della nostra sintesi. Proseguono le immagini dall'alto dall'elicottero per darci il giusto mix tra quello che è l'andamento della corsa e naturalmente la bellezza di questi territori di questi paesaggi che vengono toccati proprio dalla corsa. Correre in Trentino ha davvero un fascino bello, particolare Trentino che negli anni ci ha abituato a competizioni di alto livello ma soprattutto anche molto ben organizzate perché questo è un binomio che abbiamo constatato più volte ormai da molti anni a questa parte qui nella nostra trasmissione e naturalmente l'Italia ha bisogno di grandi organizzatori oltre che di grandi atleti.